Ho presentato il progetto per l'Istituto Selvatico, un intervento che farà rivivere non solo l'Istituto ma tutta l'area circostante. Non volevamo fare un contenitore di ragazzi, volevamo fare un centro propulsivo della cultura padovana inserito nella città di Padova. E questo è il progetto che è nato anche dalla condivisione con le associazioni locali, condivisione con la città. Oggi i progetti si fanno condividendo, non chiudendosi. Io penso sia una grande opera, una grande occasione per la cultura padovana, per la scuola padovana ma soprattutto per la città di Padova. Il Selvatico diventa un qualcosa di esemplificativo anche, un totem, se mi è permesso. Nel senso che lì diventerà una scuola-museo che tiene insieme la storia perché il mettere assieme le opere d'arte che sono state fatte sono le opere d'arte di chi ha frequentato la scuola e che poi è diventato un grande maestro. E da un punto di vista politico-amministrativo le prossime settimane, i prossimi mesi saranno fondamentali per dare conseguenzialità alle decisioni prese. Bisogna arrivare subito al progetto definitivo, a quello esecutivo, a coprire l'intera somma e a partire con i lavori. Siamo presenti con una erogazione cospicua nel progetto. Questo ampliamento lo vedo con grande favore perché, come è stato ben illustrato, significano soltanto dare più vitalità all'istituzione scolastica, ma arricchire proprio la città di Padova con un posto che si presta a altre attività, sottolineo l'auditorio ma al servizio della città, arricchisce di vita quell'area golenale che è una ricchezza per ora non sfruttata dalla città. Quindi è tutte le carte in regola per essere un buon progetto dal punto di vista della funzionalità didattica, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'arricchimento culturale, storico, paesaggistico della città. È un primo momento di una qualche concretezza rispetto ad una battaglia che va avanti dall'agosto del 2017. Speriamo che si possa passare finalmente dal dire al fare. I progetti esecutivi sono importantissimi, senza progetti non si possono neanche cantierare i lavori. Quello che ci preme è che l'operazione avvenga nella sua interezza, perché il progetto è stato concepito come una macchina scolastica e culturale che funziona tutta insieme, sia nella parte storica, sia nella parte moderna che ricostruisce il famigerato prefabbricato dove ci saranno laboratori e dove ci sarà un auditorium aperto al territorio e alla città. Grazie.